Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Sono felice che tu abbia deciso di passare questi momenti con me. Cosa dovrei fare? Forza nemica all'orizzonte! Fai attenzione, ricognitore! Corazzata nemica avvistata! In volo! In volo! Cosa dovrei fare? Cosa dovrei fare? Cosa dovrei fare? Cosa dovrei fare? Ricognitore rientrato sano e salvo! Cosa dovrei fare? 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 In mano! Cosa dovrei fare? In mano! Fai attenzione, ricognitore! Corazzata nemica avvistata! Porta aereo inimica affondata! Cosa dovrei fare? In volo! Cosa dovrei fare? In volo! In volo! Cosa dovrei fare? Siluria, frua! In volo! Ricognitore rientrato, sano e salvo! Incrociatore nemico avvistato! Cosa dovrei fare? Submergibile nemico affondato! Tutto come nuovo! Corazzata nemica individuata! Abbiamo distrutto un incrociatore nemico! Corazata nemico avvistato! No! No! Cacciatore di un mare nemico individuato Cacciatore di un mare Cacciatore di un mare nemico individuato Cacciatore di un mare nemico individuato Questa nave vuole rovinarci le feste Quest'area dovrebbe essere nostra, giusto? Quest'area dovrebbe essere nostra, giusto? In vola! Concentrate fire on the enemy warship In vola! Cosa dovrei fare? Siluri in arrivo da poppa Dovremmo davvero concentrarci su quella nave Siluri in arrivo da poppa Dei siluri ci stanno inseguendo La corazzata nemica sta colando a picco Torna indietro Andiamo in quest'area Andiamo in quest'area Andiamo in quest'area In vola! In vola! Quest'area chiede proprio di farsi catturare Sommergibile nemico affondato Cosa dovrei fare? Fai attenzione! Ricognitore! Ricognitore! Prendiamo questa nave Rimangono solo cinque minuti L'incrociatore nemico affistato La corazzata nemica sta colando a picco E' No 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 Ricognitore rientrato, sano e salvo Urrà! Abbiamo quasi vinto! Regali per tutti! 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 Regali per tutti!